Salve a tutti signori, ci risiamo. Nuova puntata di questa serie in su. Final Fantasy VII Remake. Siamo in post, la scorsa puntata c'era andato a tanto così. Tanto così c'era andato. Tanto così. A un niente. Voglio un attimo espansionare le armi. Cloud. Lama acciaio. Posso espandere. Ok. Cloud. Cloud. Punti vita massimi più 200. Dove? Dove sono i punti vita massimi più 200? 200. Sì, però 200. No, però 200. Prega potenza magica. È ok. Potenza magica. È ok. Potenza fisica. Allora, potenza fisica l'ho già fatto. Effetti recupero ricevuti ci metto con pochi più... Ah, ok. Sì. Ok. Sì. Che capiterà molto spesso. Sì. 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 Fa la potenza invece. Qua ho fatto tutto sbloccato. Giusto? Sbloccato, è bloccato sulla riveta magica. Ma c'è la possibilità che ci siano... Novo alloggio per le materie? Dov'è il nuovo alloggio per le materie? Dov'è l'alloggiamento per le materie? Ok. 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 Quindi, vediamo un po'. Alla fine siamo più o meno lì, eh. No, mi mantengo la lama d'acciaio. Mi mantengo la lama d'acciaio. Mentre voi... Allora, i guanti tonici non... Allora, nocchie metalliche. Le nocchie metalliche... Nocchie... Unici punti. Cosa che voglio vedere? Non attacchi dall'alto o me ne preghi niente? Potenza fisica... E' un momento potenza fisica. Sì. Sì. Ok. Ci sto. Va bene. Però voglio vedere però... Allora. Mio questo c'ha però un sacco di materie da mettere. No, no, no. No, no. Tengo i tonici. Tengo i tonici. Tanto qua, per quanti di cuoio, penso, ormai non valga più neanche. La pena. Mitraglie automatiche. Fucile d'assalto. Peccato. Qua c'è un legame. Gente PV. Compagni colpiti. No, no. Vabbè. Non è inutile che... No. Ok. Va bene. E proviamoci. Salta. Perché già abbiamo visto la sequenza. Torniamo a noi. E proviamoci. E proviamoci che... Comunque per tanto tempo c'è un tante cose che non ho capito. Ah, la verona. E' un'altra cosa. Eeeeee... Si blo... No. Ok. Va. Ok. Allora. Magie. Fulgur. aerosoveglianza, vai! allora, magie, fulgor, aerosoveglianza, poi Barrett, magie, fulgor, aerosoveglianza, vai! Sperati, Cristina! Porca! Aspetta, fermi tutti, oggetti! Gran pozione tifa, dai! Aaaaaaah! Ok! Dai! Eeeh, allora, oggetti! Tanti no! Lo fa Barrett! Oggetti! Gran pozione! Cloud! Cloud! Oh! Oh! Uuuu! Uh! Eeeh! Allora, Cloud! Barrett, abilità. deflossione estremante vai abilità no tifa abilità chakra cloud abilità abilità lezione estremante vai vai oh porca miseria ok allora abilità no barret non c'ha niente tifa abilità rovesciata vai dai 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 estremo dai bellissimo ok 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 allora no 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 quindi oggetti gran pozione cloud dai oggetto no 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 limite colpo incrociato colpo incrociato vai no 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 allora io direi magia fulgor andiamo sul braccio destro tifa 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 magie fulgor braccio destro magie no eh barret magie fulgor sempre il braccio destro vai uh uh si si eh eh aspetta barret eh barret tifa oggetti gran pozione cloud eh barret oggetti gran pozione barret vai vai e porca e porca miseria allora oggetti gran pozione cloud barret no barret oggetti gran pozione barret barret cloud non posso non posso vai posso invocare per favore cloud cloud no 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 Invoca, difetto, vai! Vai! Ok. Poi. Ma porca! Vai! Ah! Ok. Ok. Allora. Capito l'azione? Ecco, se non lo so, non lo so io. Vabbè. Poi. Tifa. Oggetti. Gran pozione. Tifa. Poi. Ok. Allora, io direi abilità. Pressione estremante. Vai! Barrett. Abilità. Esplosione estremante. Vai! E dai! Non m'ha preso! Non è vero! Non è vero! Non è vero! E allora. Oggetti. Gran pozione. Cloud, vai! Ok. Ok. Vai! Ah! Spara la super mega... Bomb. E un posto spesso operario. No, vabbè. Ok. Vabbè. Allora. Magie. Fugo. Aeroso veglianco. Vai! Tifa. Magie. Fugo. Aeroso veglianco. Vai! Ma non è stato nemmeno dato neanche l'avviso della cosa. Allora. Oggetti. Pozione. Cloud. A me. Ok. Io prima di usare al lente vorrei portarlo allo stremo. Allora. Oggetti. No. Magie. Fulgor. Aeroso veglianco. Vai! Che cosa? Questa è che è impossibile. Niente. Niente allo stremo. Sovipi tra le punde. Vabbè. Ok. E qua... Qua devo controllare lui. Ok. Allora. Tifa. Oggetti. Gran pozione. Cloud. Oh! Via! Ok. Allora. Tifa. Tifa. Anzi. Prima. Barrett. Abilità. Esplosione estremante. Vai! Poi. Tifa. Oggetti. Gran pozione. Barrett. Vai! Vai! Tifa. Poi. 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 Vai! No. È tanto inutile pararti perché tanto non c'è. Poi. Allora. Aspetta. Cloud. Limite. Colpo. Non ne ho trovato niente. Vai! Vai! Limite. Scarica l'erfocante. Vai! Bella lì! Ok. Dai! Forse è più testibile adesso. Allora. Va. Allora. Barrett. Abilità. Reposione estremante. Vai! Poi. Tifa. No. È Cloud. Ha fottuto i tuoi attenti. Ok. Vai! Tifa. Oggetti. Gran pozione. Abbavert. Vai! Cloud. Cloud. Abilità. Lezione estremante. Vai! Oh! Eeeeee... Aspetta. Abilità. Lezione estremante. Aero sbagliante. Tutto ante. Le lo facciamo a quattro ante. Non. Vai! E lo facciamo a quattro ante. Le lo facciamo a quattro ante. Allora. E' pozione... Strenante. Aero sbagliante. Sbagliante. Stremo. Oh! Stremo. 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 E' il tuo momento. Eeeeee... Allora. Tifa. Magie. Fulgor. Aero sbagliante. Cloud. Magie. Fulgor. Aero sbagliante. Vai! Ah! Caricello. Oh! E la 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 la... L'alero! E la lero... Ah! Ok. Barret. Abilità. Explosione estremante. Aero sbagliante. Le lo facciamo a quattro ante. Vai! E Cloud. come siamo messi tutti ok cloud magia indice aerosorvegliante vai no merda merda porca allora oggetti mega porzione barret perché a questa distanza lui può far danni ok guardarmi barret ok barret no tifa 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 oggetti gran pozione a barret vai via tocca tu tu quella puttata ok ok tocca allora tifa oggetti gran pozione barret ok dai arripigliati arripigliati fanala ok tiff merda limite target fragante è una cosa vogliante eeeh parret oggetti mega pozione cloud poi oggetti mega pozione no 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 poi no no eh eeeh tiffa oggetti mega pozione parret parret no ti avevo sbagliato no mi sono stanchi eeeh non ho nessuno ok 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 allora oggetti mega po- eh minchia solo la mega po- solo la mega po- solo la mega po- è rimasta mega po- no pozione barret barret merda eh mi ha questa po- sorella eeeh oggetti eeeh mega pozione adesso me la devo giocare si viene subire su barret ahhh allora magie energia no ho coccione magia e allora no abilità posizione estremante adesso devi anche io la faccio non caprate io non capisco come è possibile perché se vado indietro è peggio allora tifa 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 oggetti porca michele eeeh no tifa tifa magie energia a barret eh meglio che niente aaaah eeeh barret tifa oggetti porzione barret vai vai ma non mi faccio più danno no 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 oh vai va ok ok capito è meglio che fa chocare qua non ci sto capo va dai toba capito no 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 sì 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 porca michele sì Sì, porca miseria, sì. Allora, io presumo che qua ci sarà una sequenza animata in cui in qualche modo Cloud si salva, perché se no sarebbe finito il gioco, cioè sarebbe finito il gioco qua, insomma, quindi presumo che ci sia una sequenza dove Cloud si salva, ecco. Allora, vediamo come, visto che sta precipitando nel vuoto assoluto, col coso che, col rampino che è andato pure a farsi benedire, i testa ci stanno andando. Che cosa? Ah, sui fantasmini, fantasmini marroni. Lo stanno salvando? Ah. Ah, che sta parlando con se stesso. Ah, ma questa è una cosa onilica, un po' così. Perché non? Ah. Bene. È facile. È lentamente. E lentamente. Sì, sì. Eh. Chi sei? Chi sei? Eh Contrarsi ancora Ma si fondi il settore 5 chiesa Ah sono atterrate una chiesa Ah salve Signora la tizia La ragazza dei fiori Ah Erit ecco Ecco è un nuovo effettivo Questo pronunciare da altri Piacere mio Mi ha preferito evitare al volo così Però Eh E questo è Una vecchia città nel settore 5 Ah Ah Ok Si parò con 4 scivolati Fai Ok Comunque allora E che cosa ha la tua scusa Ah bene E che cosa ha la tua scusa Ah ok va bene ok ci faremo quattro chiacchiere va bene si ok mochi è questo è il mio guardia e un soldato è bello, no? un soldato? un soldato che sai? sai, hai gli occhi almeno non ti preoccupi, no? il lavoro di guardia non è troppo diverso da Merc's stuff, certo? eh, non... vabbè credo dal soldato faccia solo questo per me, ok? ok 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 ma ti costa molto molto, eh? un giorno dovrebbe farlo però ok non è troppo diverso da essere una qual classe? prima se tu mi fai a me 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 fai ok ok va bene ok va bene eh allora allora fai poi ok ok estremo ok un soldato un soldato poi poi va va vai ok ok vai e strabili prerobili prima vero olè ok altri Altri? Ok Sì Ok Allora Magie Secondo me? Allora Oh Questi umani hanno Ah Bene Dai Eee 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 Abilità Lesione estremante Un ruino Stremo Perfetto E adesso Eee Ah Sì Ma infiliamoci una linta Così Stop Non gli ha fatto niente la linte? Ok Ok Allora 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 Vabbè Dio Vabbè